ecco va che lo seguono forza 12 sono 6, 9 e 12 dopo la processione col cielo questa è già bella dopo mi dai filmato certo abbiamo bloccato il traffico abbiamo bloccato il traffico di lavena aspetta ci siamo quasi ma gli dai anche da mangiare dopo allora la mamma venga a prendersi piccoli per favore di là, di là sono stanchi ce la fanno più fagli passare da lì dai giù in acqua dai dai è fatta è uno sbasso è uno sbasso non è un germano no ma lei li cura si 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 guarda dai cara ma che roba no troppo forte guarda 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 Grazie